Buonasera a tutti, sono Stefano Vessicchio per il consueto aggiornamento dell'analisi ciclica e volevo ricordarvi che per le mie analisi uso il software Cycle Navigator di Eugenio Sartorelli, chiunque volesse provare una demo, fa l'iscrizione, scarica il programma e gli verrà attivato un account che dura 30 giorni. Bene, veniamo a noi, la settimana passata è stata caratterizzata ancora da forti rialzi, da nuovi massimi, questo è l'Eurostoxx, questo è il ciclo a un anno e mezzo o due, devo essere preciso perché sono stato criticato, sono stato criticato perché non do la lunghezza precisa dei cicli, per cui cercherò di essere il più preciso possibile. Come avevo ipotizzato tempo fa, il nuovo ciclo a un anno e mezzo, io dico a due anni ma è un pochino più corto, il nuovo ciclo a due anni ha fatto secondo me il suo primo massimo, per cui dovrà esserci una fase di ritrasciamento e poi mi aspetto ulteriori massimi e poi dopo praticamente dopo metà gennaio fino a marzo dovrebbe chiudersi la sua metà, quindi prevedo dei ribassi, dunque andiamo a vedere, eccolo qua, il ciclo, il t più 5, il t più 3 intermedio, il t più 4 semestrale, t più 5 annuale oppure io ho messo un ciclo da 180 giorni perché adesso fa circa 90, 90, 180 giorni, 180 giorni di borsa aperta sarebbero 9 mesi, ciclo da 9 mesi praticamente. Qui erano le ipotesi che avevo fatto, come potete vedere sono state rispettate, qui a metà dicembre avevo ipotizzato un minimo, probabilmente è stato questo perché è talmente teso a rialzo che io poi non mi aspettavo così violento, che è andato in laterale, ecco mi aspetto ancora qualche altro massimo per poi andarsi a chiudere e questa debolezza penso che comincerà fine dicembre, prima di gennaio fino a marzo per poi ripartire un'altra fase ciclica. Bene, andiamo a vedere un attimo nel DAX, come potete vedere anche sul DAX ha rispettato l'andamento ciclico, queste sinusoidite della linea bianca sono indicative solo per i tempi, non per i livelli, per cui per me un minimo di un ciclo potrebbe essere anche questo, qui lo visualizza così ampio però potrebbe essere anche questo, anche sul DAX è la stessa cosa, perché io mi aspetto ulteriori massimi per poi un periodo di debolezza che potrebbe partire da dopo Natale. Bene, andiamo a vedere l'SP500, ecco l'SP500, ecco io non vi dico nulla, questo è il ciclo a un anno e mezzo o due, io dico ciclo a due anni, come vedete ha rispettato, l'altra volta infatti avevo detto avrebbe fatto nuovi massimi, eccolo qua, vedete, poi questo è il ciclo, questo è il ciclo, è un nuovo ciclo a 180 giorni, perché l'SP500 è spostato rispetto all'Europa di 90 giorni, quindi ha cominciato 90 giorni prima un ciclo, praticamente un ciclo a 180, che già l'ha concluso e qua ne ha cominciato uno nuovo, come potete vedere la centratura, non dico che è stata perfetta, ma molto attirente a quello che ha fatto alla realtà, ecco io mi ero centrato grossomodo quando stavamo qua, sta rispettando l'andamento, ecco, questo è il ciclo intermedio o trimestrale, qui praticamente io mi aspetto che facciano i massimi, per cui niente, diciamo che mi attendo, ecco, fino a fine dicembre, prima di gennaio rialzo laterale e poi i mercati fino a marzo del 2017 dovrebbero cedere, dovrebbero fare un periodo periodo di debolezza. Bene, questo è tutto, io ricordo sempre che questi studi che io faccio non sono inerenti a solleciti di investimento, per cui chiunque lo fa in denaro reale lo fa a suo rischio e pericolo. Volevo ringraziare tutte le persone che mi seguono, chi mi ha contattato, grazie per appunto i vari apprezzamenti. Questo è l'ultimo video del 2016 e per cui riprenderò a fare video, a fare analisi dopo l'epifania nel 2017. Io vi saluto a tutti, vi auguro buone feste a voi e le vostre famiglie e vi auguro un buon 2017 e che sia profittevole per tutti noi che facciamo il trading. Grazie a tutti e vi auguro una buona serata.